Tutto per parlare anche di giovani e di giovani creativi perché io sono responsabile della Sky Academy a Milano e quello che noi vogliamo fare è offrire opportunità ai giovani, sbloccare il loro talento, sostenere la loro creatività e questa Napoli ci sta dando molte emozioni e molte belle cose, nel senso che stiamo lavorando con le scuole, con l'Accademia dell'Arte per fare una serie di progetti che si sviluppano nel tempo, per esempio 15 ragazzi dell'Accademia stanno lavorando in Piazza Montesanto con l'artista Rocks in the Box per lasciare un'opera di street art, alcuni ragazzi della Sanità che ci hanno aiutato a mettere insieme le associazioni stanno lavorando per realizzare i loro servizi di videogiornalismo grazie al supporto anche dei nostri giornalisti di Sky TG24 quindi quello che noi cerchiamo proprio, ci auguriamo, ma penso che siamo, sono sicura che succederà è proprio sbloccare la creatività, insomma dare via libera alla creatività dei giovani qui a Napoli